Lo scorso anno i ladri si erano dati da fare anche negli oliveti razziando olive in diverse zone dell'entroterra. Quest'anno in attesa del momento dell'abbacchiatura in Valle Imperio è stato rubato da una campagna un ingente quantitativo di mele e pere e ora la preoccupazione è che presto anche per le olive possa ripetersi quanto accaduto in passato, complice anche il fatto che in alcune zone la grandina è in parte compromesso i raccolti. Lo scorso anno sono state segnalate persone che con abbacchiatori per olive e cesoie si erano date da fare a ripulire clandestinamente oliveti con predilizione per quelli vicino alle strade e non mancano neppure i ladri d'uva, tanti viticoltori della Valle Imperio e della Valla Roscia che hanno registrato loro malgrado un incremento di furti purtroppo senza riuscire a individuare i responsabili. Oltre ai ladri le viti sono spesso esposte poi al rischio di espogliazione da parte dei cinghiali e anche questo è un fenomeno che sta crescendo. Tra animali selvatici affamati e ladri di frutta e olive per gli agricoltori non è facile difendere le produzioni e c'è già chi ha pensato addirittura di istituire delle ronde.